Comprendere, contemplare e servire i popoli dell'Amazzonia in un appuntamento che non è una tavola rotonda o una conferenza, ma un cammino sinodale, perché il Sinodo non è un Parlamento, bensì un'occasione per riflettere, dialogare, ascoltare con umiltà, parlare con coraggio e paressia, discernere e custodire sempre la fraternità. Questa è la riflessione proposta da Papa Francesco nella sessione inaugurale dell'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica sul tema Nuovi Cammini per la Chiesa e per una Ecologia Integrale. La raccomandazione ai padri sinodali è quella di accostarsi ai popoli amazzonici in punta di piedi, rispettando la loro storia, la loro cultura, il loro stile di vita, la loro poesia. Non quindi intenzioni pragmatiche, non programmi di sviluppo sociale e di tutela delle culture, non azioni col medesimo stile che ha condotto a deforestazioni o sfruttamento, ma una dimensione che ha occhi e cuore da discepoli missionari senza proselitismi nel rispetto della realtà di un popolo che è sovrana. Perché i popoli possiedono un'entità propria, tutti i popoli, possiedono una saggezza propria, una coscienza di sé. Conscienza di sì. E' all'origine di slogan e parole offensive che programmano l'approccio ai popoli originari. Il Santo Padre spinge poi a lavorare sull'instrumento laboris, che, spiega, è un testo martire, destinato cioè ad essere modificato, addirittura distrutto nel corso dei lavori, perché è un punto di partenza del cammino che sarà appunto indirizzato dallo Spirito Santo. Grazie per quello che state facendo, grazie per pregare uno per l'altro e... Animo, per favore non perdiamo il senso dell'umorismo. Grazie.